In studio Veronica Puglisi. Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati a una nuova edizione di MTG. Lo avete sentito dai titoli di prima pagina in apertura il maltempo che si è abbattuto in Sicilia e che continuerà fino al pomeriggio. Gli interventi principali hanno interessato la zona del Trapanese e Vittoria nel Ragusano. Non ci sono feriti ma a Castelvetrano a causa del rischio crollo di un palazzo sono state evacuate tre famiglie. A Trapani sono state chiuse le scuole, l'allerta è a Gialla. Facciamo il punto in questo servizio. E allerta Gialla in Sicilia dove si sono registrati forti temporali e piogge nelle prime ore della mattina. A Trapani sono state chiuse le scuole come stabilito dal sindaco Giacomo Tranchida a causa della forte pioggia che da ieri ha provocato danni ad abitazioni e allagato strade. Le vie di erice si sono trasformate in fiume, le scuole tuttavia rimangono aperte. L'epicentro del maltempo è tra Castelvetrano e Campobello di Mazzara con persone in pericolo dentro le auto rimaste in panna intrappolate dal fango e dai detriti. Ma per fortuna non c'è alcun ferito. I vigili del fuoco del comando provinciale di Trapani hanno lavorato tutta la notte. Nella tarda mattinata di oggi le squadre sono arrivate in piazza Ruggero VII a Castelvetrano per il parziale crollo di un palazzo che è stato evacuato con all'interno tre famiglie. Sette persone sono state salvate e troveranno sistemazione tramite il comune. Ad essere messe in ginocchio anche Vittoria nel Ragusano rimasta lagata. I vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa sono intervenuti con le motopompe elettriche a scoppio per aspirare l'acqua piovana che è ristagnata sulla strada. Non riuscendo a defluire a causa delle pompe sommerse che non sono riuscite a sostenere l'ingente flusso d'acqua. Sia per gli accessi laterali depressi e sia per la mancata manutenzione di tombine e caditoie. La potenza della notevole quantità d'acqua ha attraversato anche porte e marciapiedi riuscendo ad entrare nelle case e nei negozi a Vittoria. A Ragusa e Ibla un'auto è stata trascinata mentre stava attraversando una strada sterrata sul letto del fiume. L'automobilista è riuscito ad abbandonare il mezzo e a mettersi in salvo. Le amministrazioni comunali hanno invitato i cittadini a limitare gli spostamenti considerate le avverse condizioni che interesseranno l'isola per le successive 18-24 ore e di non sostare in locali interrati o in aree sottomesse. Il Comune di Catania ha annunciato il via ai lavori di pulizia degli alve e dei torrenti nella parte sud della città etnea. Ci vorranno circa 20 giorni per pulire il tutto, un intervento importante ma che è stato deciso troppo tardi considerando le piogge che da questa mattina stanno interessando la città. In queste ore è prevista per la Sicilia un'allerta gialla, un'ondata di maltempo alla quale occorre farsi trovare preparati. Proprio qualche giorno fa anche il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizi, ha predisposto una serie di interventi convocando una riunione sul rischio idrogeologico e idraulico nel territorio provinciale. Ecco perché necessitano vari interventi a partire dalla pulizia degli alve e dei torrenti. Tra quelli più a rischio per la parte sud di Catania, l'acqua sante, il forcile e acquicella. Più volte attraverso i nostri servizi TG abbiamo evidenziato come spesso i propri torrenti nella parte sud di Catania non fossero proprio puliti. E anche oggi, con la pioggia che è cominciata a cadere, ci siamo resi conto che ancora in alcuni tratti la sporcizia permane. Da qualche giorno sono partiti degli interventi e ci vorranno circa 20 giorni per pulire tutto. Il comune di Catania ha infatti stanziato, con non carattere di sommo urgenza, circa 300.000 euro per interventi di disostruzione degli alve e di questi torrenti. Disostruzione che deve essere eseguita con mezzi meccanici e con l'impiego di operatori specializzati. Ma che a ottobre possa piovere non è certo un fatto straordinario. Anzi, è proprio a ottobre che cominciano le piogge più forti e dunque farsi trovare preparati diventa un dovere. A sottolineare che ancora una volta è mancata una programmazione adeguata e tempestiva. A questo punto speriamo che le piogge previste per le prossime ore siano meno forti di quelle annunciate, considerando che ancora non tutti i torrenti sono stati puliti. Rimaniamo ancora in tema di maltempo, perché nell'ottobre del 2021 crollò a causa del nubifraggio che colpì Catania un muro di cinta in un plesso distaccato della scuola Fontana Rossa. Dopo un anno nulla è cambiato, nonostante la dirigente abbia più volte sollecitato le istituzioni. Un anno fa il crollo di un muro di cinta. Dopo 12 mesi nulla è cambiato. Siamo nel plesso scolastico Nuova Masseria Moncada, che fa parte dell'istituto scolastico Fontana Rossa nel quartiere di Librino, a Catania. Un anno fa, quando un violento nubifraggio si abbatte proprio sulla città e tennea, provocando danni ingenti, questo muro crollò. E da allora la dirigente scolastica, Concetta Tumminia, ha fatto reclami su reclami, sperando in un intervento, perché, come ci ha detto questa mattina, si è creata una situazione pericolosa, con una grave mancanza di sicurezza per alunni, genitori, corpo docente e tutti coloro che ogni mattina frequentano l'istituto del Viale Moncada 15. Abbiamo avvisato più volte le istituzioni competenti, senza mai ricevere alcuna risposta, ci dice ancora la dirigente, che denuncia anche le pericolosità legate ai rifiuti che quotidianamente vengono bruciati. La zona non è assolutamente controllata, come altre zone della città, che invece sono monitorate da videocamere di sorveglianza, per cui di fatto qui troviamo di tutto, gli incendi sono pressoché all'ordine del giorno, la salubrità dell'aria è molto compromessa, ma il problema per noi importante e fondamentale è quello della sicurezza del plesso, perché al di là delle opere che dovrebbero sanare il fatto di questo muro, dovrebbe diventare la vera apertura, il vero ingresso della scuola, non è mai stata fatta la verifica delle mura di scinta, che di fatto hanno tutte la stessa caratteristica. Quando avete fatto le richieste di intervento? Subito, e poi a distanza di una settimana, un mese, ce n'è una sfilza. Nell'ultima lettera che abbiamo scritto e inviato alla Prefettura, all'ASL, a tutti gli uffici competenti del Comune di Catania, abbiamo citato tutti i protocolli di tutte le richieste che abbiamo fatto. Parliamo adesso di un altro fenomeno riguardante l'ambiente, una spettacolare colata lavica, arrivata fino al mare dal cratere di Stromboli, seguita da Crolli. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sta monitorando l'attività vulcanica, la popolazione però non è a rischio e a nessuno è stato mai vietato di uscire di casa, lo ha precisato il sindaco di Lipari, Roberto Gullo. Lo spettacolo naturale della colata lavica da Stromboli con una cascata sulla sciara di fuoco fino al mare ha tenuto con il fiato sospeso isolani e turisti fino alla notte appena trascorsa. Stamattina dalle webcam si osservano, come comunicato anche dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, crolli e flussi lavici meno alimentati che non raggiungono più il mare. I vulcanologi continuano a monitorare il settore craterico, soprattutto di nord-est di Stromboli. Non si è trattato di un'esplosione ma di un aumentito del quantitativo di magma che è risalito nella parte alta del condotto che ha causato un traboccolavico più intenso rispetto a quelli più piccoli che si erano verificati in giorni precedenti. Questo traboccolavico all'inizio ha fatto crollare una piccola porzione del bordo della terrazza craterica che ha causato un flusso filoplassico all'inizio che si è sviluppato per alcuni centinaia di metri in mare e poi c'è stata questa emissione lavica ieri ben alimentata che è arrivata in mare e poi gradualmente durante la notte è cominciato a regredire. È un fenomeno che rientra nei tipici fenomeni di questo vulcano che sono di intensità maggiore rispetto alla normale, all'ordinaria attività stromboliana. Non c'è alcun pericolo per la popolazione né per i turisti. Il sindaco di Lipari Roberto Gullo ha precisato che non ha mai vietato di uscire dalle abitazioni ma è necessario invece adottare precauzioni per le escursioni. Non gli è stata finora mai impedita di uscire di casa ma è un'indicazione sui comportamenti da assumere nel caso in cui ci fossero state delle eruzioni. La scalata a catere era già vietata, era vietata dai 400 metri in su quindi da questo punto di vista per ora non cambia nulla se non la raccomandazione di non raggiungere nemmeno quote basse. L'incidente è mortale lungo la strada provinciale 122 che conduce al ponte Saraceni nel territorio di Adrano a perdere la vita un quindicenne mentre è rimasta ferita la sorella di 17 anni che è stata trasportata all'ospedale San Marco di Catania. I due viaggiavano a bordo di una minicar, l'incidente da una prima ricostruzione sarebbe autonomo. Sul posto due ambulanze del 118, la polizia del locale commissariato e i vigili del fuoco. Sull'asfalto è stato trovato anche un gatto morto e dunque non si escluderebbe che la 17enne alla guida del mezzo per evitare l'animale abbia perso il controllo. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Cinque mesi e dieci giorni di reclusione per il sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino condannato dalla prima sezione penale del Tribunale di Agrigento. Il prefetto alla luce della legge Severino sospenderà il primo cittadino deve rispondere di abuso d'ufficio. Colpevole di avere commesso un abuso nel rimuovere dall'incarico l'ingegnere Salvatore Cherelli perché non si è prestato ad assecondare alcune sue richieste e il verdetto dei giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento presieduta da Alfonso Malato nei confronti del sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino condannata a cinque mesi e dieci giorni di reclusione e imputato di abuso di ufficio. Con questo verdetto ai sensi della legge Severino il prefetto procederà alla sospensione dalla carica. Secondo l'accusa il sindaco avrebbe cercato di costringere l'allora responsabile dell'ufficio tecnico a mettere le carte in regola su un immobile abusivo e consentire quindi ad una parente di venderlo. Le pressioni di Pendolino sarebbero state finalizzate anche a revocare la consistente sanzione amministrativa che per prassi viene combinata dagli uffici quando si accertano violazioni edilizie. Il dirigente ha denunciato il sindaco e si è costituito parte civile con l'assistenza dell'avvocato Daniela Posante. I giudici hanno stabilito che dovrà risarcirlo. I difensori del sindaco, gli avvocati Loredana Danile e Donatella Miceli al contrario avevano sostenuto che l'ingegnere Chiarelli fu sostituito nell'ambito di una prevista rotazione finalizzata a razionalizzare la macchina burocratica. Non c'è mai stata alcuna pressione in debita dichiarano i legali a Lanza semmai nel corso degli anni ci sono state ripetute inefficienze da parte di Chiarelli che fu sottoposto ad una sanzione disciplinare. Il PM aveva chiesto per il sindaco la pena di nove mesi. La condanna dunque prevede la sospensione per 18 mesi. Le redini del comune di Aragona quando sarà firmato il provvedimento da parte della prefettura di Agrigento passeranno al vice sindaco Antonino Contino che per tanti anni è stato alla guida del vicino comune di Comitini e che in questo secondo mandato di Pendolino è il suo vice. Un albanese di 39 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Guzzardi di Vittoria dopo essere stato ferito a colpi di arma da fuoco. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la polizia. Un albanese di 39 anni, irregolare in Italia, è stato ferito con colpi di arma da fuoco in parti del corpo non vitali, principalmente alle gambe. I fatti si sono verificati alle prime luci dell'alba e l'uomo si è presentato direttamente al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria intorno alle 7, chiedendo aiuto. Non è chiaro se sia stato lui stesso a guidare o se qualcuno lo abbia accompagnato e abbia poi fatto perdere le proprie tracce. L'auto, in ogni caso, si trova nei pressi dell'ospedale dove l'uomo è ricoverato ora in ortopedia con la prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. A breve sarà sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. I fatti si sarebbero verificati sulla vittoria a pedalino in territorio di Vittoria e i colpi sarebbero stati esplosi a distanza ravvicinata. Indaga la polizia che sta cercando di ricostruire l'accaduto ma non è intervenuta sul luogo della sparatoria essendo stata allertata dal Guzzardi. Fin qui i dati certi. Stando a notizie non confermate, l'uomo avrebbe precedenti per spaccio e a colpirlo sarebbe stato un uomo col volto travisato. Su questa pista si starebbero concentrando gli inquirenti. Il NAS Carabinieri di Ragusa ha disposto alla chiusura dell'intero stabilimento di una nota industria conserviera di scicli a seguito dell'accertamento di gravi violazioni in materia di igiene e sanità riscontrate nei luoghi di preparazione, manipolazione e trasformazione di prodotti orticoli destinati per il confezionamento di conserve vegetali e per la successiva commercializzazione, violando il pacchetto igiene. Tra le altre cose l'acqua utilizzata per i processi di lavorazione era stoccata in cisterne non autorizzate, prive di requisiti igienico-sanitari. Al titolare dell'attività commerciale sono state elevate multe per 4.000 euro. Cambiamo adesso argomento. Alla chiusura delle operazioni di scrutinio potrebbe mancare poco e da questo che dipenderà anche la cerimonia di proclamazione dell'eletto presidente Schifani. L'evento dovrebbe tenersi questo fine settimana. La giornata in cui sarà proclamato il presidente eletto, salvo cambiamenti, è quella di sabato. Una indicazione che arriva dall'entourage di Schifani e che troverà conferma nel volgere di pochi giorni. Terminate le operazioni di spoglio, dopo il rallentamento registratosi in alcune sezioni, si potrà essere ancora più certi. Da lì la fotografia della nuova giunta potrebbe prendere forma concreta mettendo da parte l'alternarsi costante quotidiano di ipotesi. Il paradigma da seguire vede la sua prima forma in Roma. È da lì che Schifani potrebbe completare il disegno della squadra. La prospettiva infatti vede all'orizzonte prima le scelte del nascente governo Meloni. Ma la forma trova più formule diverse in Sicilia. Fratelli d'Italia non farebbe un passo indietro sulle aspirazioni. Il partito che ha stravinto il 25 settembre è lo stesso che ha permesso, con il ritiro di Nello Musumeci, di procedere alla candidatura unitaria di Renato Schifani. Per loro i quattro assessori e la presidenza dell'Assemblea regionale siciliana sarebbero un diritto. Schifani, però, ha sempre frenato rilanciando tre assessorati per Forza Italia e tre per Fratelli d'Italia. Due andrebbero a Lega ed MPA e Democrazia Cristiana. Ma il partito di Salvini, reduce da un fallimento elettorale, vede il suo segretario regionale, Nino Minardo, rivendicare l'assessorato regionale all'agricoltura ad un ragusano e la vicepresidenza dell'Ars. Il ragusano in questione sarebbe Orazio Ragusa, ma la tesi di Minardo cade al confronto con la linea del presidente della regione, che vede nel DNA degli assessori la caratteristica comune dell'elezione e questo frenerebbe sull'ex presidente della Commissione Attività Produttive, Orazio Ragusa. L'assessorato, però, non è escluso, possa andare sempre ad un ragusano, un modicano nello specifico, Ignazio Abbate, in quota DC. Fratelli d'Italia ambisce ad assessorati di peso, sanità ed infrastrutture su tutti, ma quest'ultimo assessorato potrebbe avere invece la riconferma dell'uscente azzurro Marco Falcone, scelta che potrebbe garantire il prosieguo degli iter avviati senza tanti e troppi cambiamenti. Parliamo adesso del caro energia. In un anno la bolletta è triplicata e andando avanti così rischia di chiudere l'attività a fine dicembre. E' il dramma di un panettiere di Catania. Fino a dicembre resta aperto, fino al 31 dicembre resta aperto, a gennaio, onestamente, sapendo poi il calo di vendita che ci sarà. La bolletta è messa in bella mostra, oltre 4.400 euro solo per la luce per il mese di settembre. Siamo in un panificio di Catania e il proprietario lo ha detto chiaro, si ha una sopravvivenza fino a dicembre se lo Stato non aiuta. Un anno fa la bolletta era di 1.300-1.400 euro, quella di settembre 2022 oltre 4.400 euro. E a ottobre è previsto un nuovo aumento. E neanche aumentando il prezzo del pane si può fare fronte a queste bollette. I prezzi sono alle stelle, farina, strutto, olio. Abbiamo subito aumenti in tutto perché giustamente anche gli altri fornitori hanno problemi con carburante, energia elettrica, quindi non riescono a sopperire, a tenere gli stessi prezzi che tenevano qualche mese fa. Quindi con l'aumento del pane facciamo in qualche modo, paghiamo dando gli aumenti delle materie prime, però per quanto riguarda la bolletta della luce, triplicata, così il pane dovremo venderlo a 10 euro al chilo. Con gli aumenti che avete fatto la gente sta comprando meno pane? Sì, sicuramente entra la cosa che dice qua, il pane a quanto è, perché giustamente si è sparsa voce che in questa settimana, settimana scorsa, il pane dovrebbe essere aumentato a 4 euro, però io ancora lo mantengo a 3,50, non riusciremo mai a poter pagare queste bollette triplicate. L'unica cosa è l'aiuto dello Stato perché noi così non possiamo stare aperti. Ad avere paura per il futuro sono anche i dipendenti. Come non c'è lui che non c'è più lavoro, perché abbiamo famiglia da mantenere. Siamo a casa, non possiamo fare niente, dove andiamo a lavorare? Lei ha paura di perdere il posto di lavoro? Sicuramente sì, in questo caso sì. Noi solo, tutti, anche i nostri colleghi. In negozio entra anche un rappresentante che ci conferma come molti suoi clienti sono intenzionati a chiudere. Non c'entra aumentare il pane e allora io recupero la luce. Lo puoi vendere anche a 10 euro al chilo, secondo me non cambia niente. E intanto ieri mattina a Vittoria manifestazione contro il caro bollette. Panificatori in protesta contro l'aumento dei costi delle materie prime e il caro bollette ieri mattina a Vittoria. La manifestazione è stata organizzata da Assipan. Molti titolari di panifici stanno già licenziando e riorganizzando gli orari per chiudere prima. Il corteo è appena partito da Piazza Italia e si sta dirigendo verso Piazza del Popolo. Il messaggio è uno, no al caro bollette. Questo corteo intanto è nato dall'esigenza di molti colleghi panificatori, pizzaioli, pasticcieri, che confrontandoci abbiamo sentito l'esigenza di manifestare una piccola attività che prima pagava 1000 euro, oggi si arriva a 10.000 e sono cifre impossibili da pagare. Cioè chiudendo un'attività stanno a casa 4-5 persone, le nostre sono tutte piccole attività a conduzione familiare. Noi già da un anno sopportiamo le farine che sono ringarate del 110%, il lievito da 1,60 al chilo, oggi si parla da 3 euro al chilo. È così anche il gas. Siamo proprio all'astrico, abbiamo fatto l'anno scorso delle piccole modifiche al prezzo dei nostri prodotti, ma sono delle modifiche irrisorie perché se noi aumentiamo ancora di più la gente come può venire a comprare nelle piccole attività? Cioè è una cosa insostenibile. La politica nazionale deve fare per forza qualcosa per aiutarci. Uno dei manifestanti ha ricevuto una bolletta che rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è per 10 volte. Agosto 2021, 1.000 euro e 36 e poi abbiamo 27.000 euro e 10.000 euro e quindi abbiamo un aumento del 9 per 10 volte. Tutte le imprese non riescono più a sostenere questi costi, quindi spero che qualcuno ci ascolti, ci ascolti veramente. E continueremo a parlare della manifestazione a Vittoria subito dopo la pubblicità. A tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale. Alla manifestazione di ieri contro il caro Bolletta erano presenti il senatore Salvo Salemi e l'assessore Giuseppe Nicastro. Nelle loro mani i panificatori hanno messo le proprie richieste affinché li portino sui tavoli istituzionali. Pesante come un macigno l'assenza dei parlamentari regionali alla manifestazione di protesta di Assipan a Vittoria. L'amministrazione comunale era presente con l'assessore alle energie rinnovabili Giuseppe Nicastro. Il governo nazionale che sta per nascere con il senatore Salvo Salemi assente il fondamentale tassello intermedio la regione. Nelle loro mani i panificatori hanno messo le proprie richieste affinché le portino sui tavoli istituzionali. Occorre che lo Stato subito intervenga. Speriamo che il governo, infatti Giorgia Meloni l'ha detto chiaramente, non abbiamo più tempo da perdere. Bisogna costituire subito il governo, bisogna subito entrare in campo e bisogna subito dare delle risposte chiare. Ciò che bisogna fare oggi è sedersi più velocemente possibile, porre un tetto al prezzo del gas in Europa, fermare una speculazione che c'è ed è evidente che è in atto. Io sono straconvinto che il governo Meloni su questo e col mio intervento da parlamentare e quello di altri colleghi sarà molto attivo. L'amministrazione comunale è vicina e partecipe a questa manifestazione. Il governo nazionale e i governi regionali adesso debbono darci le dovute risposte e debbono subito proporre un pacchetto di misure tali da poter dare una boccata d'ossigeno agli imprenditori, ai panificatori, a tutti coloro i quali investono in Italia perché sta succedendo che molte imprese stanno chiudendo. Ritorniamo a parlare di cronaca. I finanzieri del nucleo speciale di polizia a valutare hanno eseguito il decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Palermo nei confronti di un noto imprenditore palermitano già coinvolto in passato in complesse vicende giudiziarie. Il sequestro ammonta circa 3 milioni di euro. Ammonta 3 milioni di euro il sequestro eseguito dal nucleo speciale di polizia su richiesta della DDA valutaria nei confronti di un imprenditore palermitano già coinvolto in passato in complesse vicende giudiziarie che hanno fatto luce sulla grave speculazione edilizia passata alle cronache come sacco di Palermo. 8 in tutto gli immobili sequestrati. Il provvedimento scaturisce da nuovi approfondimenti disposti nel 2021 dalla locale procura della Repubblica DDA nei confronti dell'uomo che hanno consentito di sequestrare a più riprese tra la fine del 2021 e gli inizi del 2022 disponibilità finanziarie per oltre 35 milioni di euro. Le indagini hanno permesso di individuare sproporzioni tra le fonti illecitamente conseguite dichiarate e i costi sostenuti oltre alle disponibilità liquide. Operazione alto impatto della polizia lungo le strade del centro storico di Palermo e in particolare alla Vuciria in piazza Caracciolo. Gli agenti del commissariato centro hanno trovato e sequestrato 159 grammi di hashish e 27 grammi di cocaina pronte per lo spaccio. Sono state identificate 40 persone di cui 12 con precedenti di polizia controllate 20 vetture, elevate 5 sanzioni al codice della strada e sottoposto a sequestro amministrativo un veicolo. Sono 100 i migranti alla deriva a largo della Libia, le ONG Mediterranea Save Humans e Alarm Phone lanciano lo SOS, le persone dicono stanno imbarcando acqua, il motore si è rotto, le autorità sono state allertate, bisogna intervenire subito. Intanto 80 migranti sono stati trasferiti da Lampedusa a Porto Empedocle, nell'hot spot sono rimasti al momento 585 ospiti a fronte di 350 posti disponibili. Oggi è la giornata mondiale della salute mentale, una data riconosciuta a livello internazionale dal 1992. In aumento, secondo la Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, le richieste di aiuto di bambini e adolescenti. Si moltiplicano le richieste d'aiuto, soprattutto tra i minori colpiti in misura maggiore da ansia e depressione. È la realtà fotografata dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza in occasione della Giornata Mondiale per la Salute Mentale, riconosciuta a livello internazionale dal 1992 e supportata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo i dati diffusi dalla Simpia, in Italia un minore su quattro soffre di disturbi d'ansia e si moltiplicano le richieste d'aiuto di bambini e adolescenti. In Neuropsichiatria infantile solo 395 posti letto in tutto il Paese e ben 5 regioni senza letti. Tra il 2020 e il 2022 in aumento gli accessi dei minori a pronto soccorso e i ricoveri in ospedale per cause legate a comportamenti autolesionistici. Triplicati anche i ricoveri per disturbi alimentari come l'anoressia e la bulimia. Non bisogna sottovalutare, afferma la Società Italiana, l'impatto delle conseguenze del Covid-19 tra i più giovani. Urge un adeguato investimento nell'ambito della promozione della salute mentale e della prevenzione dei disturbi neuropsichici. Secondo un'indagine Ipsos, che analizza le opinioni dei cittadini riguardo alla salute mentale, emerge che il 55% degli italiani dichiara di pensare spesso al proprio benessere salute mentale. Il 41% sostiene che il sistema sanitario si concentri maggiormente sulla salute fisica. In ultimo, i problemi di salute mentale sono avvertiti maggiormente dai più giovani, dalle donne e dalle famiglie a basso reddito. L'unità operativa complessa di psichiatria di Modica Scicli Dipartimento Salute Mentale in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale organizza nella sede del centro di Urnò di Modica per le 17 un seminario di approfondimento sulla salute mentale nel ciclo di vita della donna. A condurre i lavori saranno le dottoresse Alessandra Barone, Floriana Caccamo, Sara Ruta e Maria Cristina Tomaselli. In particolare si affronteranno i fattori di rischio e protezione della salute mentale. A seguire si inaugurerà la mostra Venere Strabica a cura della dottoressa Elisabetta Rizza. Voi giornalisti siete come i preti, oggi più che mai si sceglie di fare giornalista per amore, per vocazione, per amore del popolo e avete una grande responsabilità verso il popolo. Lo ha detto l'arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice, partecipando al corso di formazione organizzato dall'Ordine dei giornalisti di Sicilia e dall'UXI che ha messo in relazione le due figure di Don Pino Puglisi e Don Peppe Diana, entrambi uccisi dalla criminalità organizzata. E adesso lo sport, parliamo di basket con la passalacqua che perde contro il Venezia. Ragusa lotta fino alla fine, ma è costretta ad arrendersi alla Reier Venezia che dunque continua a restare a punteggio pieno dopo la terza giornata del massimo campionato di basket femminile. Nelle fasi finali dell'incontro Venezia è stata più lucida e l'ultima tripla del possibile overtime da parte di Nicole Romeo non ha assortito l'effetto sperato. Venezia porta a casa i due punti con il punteggio 68-71. Abbiamo fatto troppi errori difensivi nella prima parte di gara, ha commentato il coach Mirko Diamanti. Non si può concedere 6-7 lay-up alla squadra avversaria, alle piccole, abbiamo subito notevolmente gli uno contro uno e questo ci ha penalizzato fortemente perché siamo partiti con un grande handicap. Poi piano piano ci siamo un po' assestati, anche cambiando un po' i quinteti, trovando magari un maggiore equilibrio difensivo. anche in attacco abbiamo avuto un po' di problemi con i fali, con l'annigui, insomma quindi non è stata una partita semplice. L'ultima trasferta è la prima che è stata, 10 giorni sono stati impegnativi, un po' anche molto stancanti e quindi magari un po' può avere inciso. Però giocare qui al Palaminardi è bello perché si sente il pubblico, sono calorosi, a me piace sentire quando ci supportano. Prossimo incontro domenica sul campo di Campobasso. E con questo servizio è tutto, grazie per la vostra attenzione e buon pomeriggio su Video Mediterraneo.